e ragazzi come sempre a freestyle dovete avere le mani alte su su le mani grazie ehi questa è il remix che ce l'abbiamo solo noi al freestyle le mani love love freestyle ehi ragazzi quando vedo la sul freestyle è spettacolo però senti come fa senti adesso che stile ehi vi fate vedere come lo fate eh? questi ragazzi me li presento questi sono quelli del freestyle fantastici ragazzi e naturalmente ve lo presentano solo loro i fratelli marzico freestyle ehi 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 Grazie a tutti